Tra le squadre della massima serie dilettantistica con uno più asterischi in classifica, in questo caso due, c'è anche il Breno. La squadra di Mario Tacchinardi, ormai ai box dal 18 ottobre scorso, quando i Granata sfidarono i bergamaschi del Ponte San Pietro, uscendo con un pareggio. Impossibilitati a scendere in campo nella domenica appena trascorsa contro l'Atrizium a causa dei tesserati positivi tra le fila biancazzurre, ora i Camoni sono attesi da un mini tour de force in vista dei recuperi. Mercoledì 18 novembre, se tutto andrà bene, il Breno sfiderà proprio i milanesi, mentre domenica 22 sarà la volta del crema dell'ex Serie A Premier League Andrea Dossena. Due gare in quattro giorni per dare una svolta al campionato Granata. Sì, la situazione è complicata, perché noi per tre settimane abbiamo preparato quattro partite e tutte le partite sono state annullate il giorno prima. Quindi anche nella programmazione settimanale è stato tutto molto complicato, perché se sapevamo di non giocare i carichi di lavoro erano completamente diversi. Invece, sapendolo sempre all'ultimo momento, la settimana viene programmata, cioè gli allenamenti settimanali vengono programmati, quindi naturalmente i carichi di lavoro vengono programmati in funzione della partita, ma se non giochi vengono comunque delle settimane inutili buttate, perché fai rifiniture su rifiniture preparando la partita in funzione dell'avversario e poi dopo le partite essendo annullate il giorno prima e hai poco tempo per sistemare un po' tutta la settimana. Devo dire che è una situazione non facile da affrontare, anche se i ragazzi la stanno affrontando con l'atteggiamento giusto, con il piglio giusto e anche l'entusiasmo giusto, cosa non scontata, visto che il periodo anche a livello psicologico non è facile da affrontare anche da parte dei ragazzi, perché il 90% dei ragazzi vivono in Serie D con il rimborso del calcio e quindi pensando che ci possa essere un lockdown e quindi interrompere il campionato, quindi magari non prendere anche il rimborso psicologicamente potrebbe anche influire. Invece devo dire che i ragazzi hanno lavorato sempre molto bene, sempre molto concentrati, attenti e spero che anche se ho qualche dubbio che il campionato possa proseguire senza intoppi, ma credo che se non cambino il protocollo in Serie D sarà molto dura quest'anno. Noi devo dire che fin dal primo giorno siamo stati molto attenti e rigidi sulle norme igieniche e sanitarie sia nello spogliatoio che sul campo da gioco, quindi è poi bene, come dici te, siamo stati anche fortunati che siamo sulla strada giusta, che stiamo giocando comunque un buon calcio, stiamo avendo anche delle buone possibilità in fase di finalizzazione, ma diciamo che siamo stati un po' sfortunati nel non finalizzare ecco un po' tutta la molle di gioco che abbiamo creato fino adesso.